Se ascolti la mia voce, no! Non indurare il cuore, oggi è il giorno della grazia, non perdere l'occasione, sbrigati, affrettati o sarà troppo tardi. Non perdere tempo a dire che sono tutte sciocchezze quelle che ti sto dicendo. Ma afferra la mano del Signore, che è stesa dolcemente verso te, pensi a farti dal mondo che finirà per portarti poi nell'eterità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! La tua incredulità non può cambiare niente, credimi da solo tu non puoi migliorare la tua posizione. Solo il Dio lo può fare e corri a Lui a chiedergli perdono e ti perdonerà. Ascolta la voce del Signore, che parla dolcemente dentro il cuore, che dice figlio mio, torna da me, che dice figlio torna da me. E afferra la mano del Signore, che è stesa dolcemente verso te, per salvarti da un mondo che finirà per portarti poi nell'eternità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!